Il tapo, la casa, todo il mondo, a quitarse il gol! Curcurruaio 2.0 Sì, la nostra città è il nostro disco per cui è tutto normale non c'è notizia in questa cosa se non che è uscito il disco e che noi siamo molto contenti di questa cosa Una rielaborazione si può dire di quello che era il rap nel 90 e che viene riportato nel 2014 qui a Napoli in tutta Italia Il rap è stata sicuramente la principale ispirazione espressiva dalla quale ho preso anche l'idea di mettermi a fare questo mestiere che fino a che la musica la dovevi cantare io non mi sentivo in grado anche se poi dopo ho scoperto di essere capace anche di cantare Con il rap mi ci potevo cimentare e ci ho provato ed è stata sempre una fonte di ispirazione Dopodiché però l'abbiamo sempre mischiata con tantissime altre influenze e generi E' proprio da questa nostra caratteristica quella di sporcare sempre le cose di razza e renderle bastarde che va letta anche questa rilettura Il disco oltre a essere già un bastardo quando era l'originale l'abbiamo voluto imbastardire, rafforzare con tutti i contributi sia degli anni che sono passati e quindi delle musiche che sono passate nelle nostre orecchie e nel nostro pianeta e sia anche con il punto di vista di una ventina di persone che con questo disco hanno avuto a che fare ma che non avevamo mai incontrato o quasi mai incontrato sul pentagramma Ecco la differenza del rap, citando appunto il rap del 90 è rapportato a quello di oggi Una cosa più generica che riguarda la musica la differenza tra la musica e la musica nei primi anni 90 e la musica oggi è proprio il rap nel senso che il rap nei primi anni 90 in qualche maniera incominciava a uscire anche se aveva già la sua decina d'anni in alcune situazioni estremamente marginali dal punto di vista culturale che lentamente negli anni 90 incominciavano a prendere posto e parola Poi oggi invece è un linguaggio universale è una roba da major, da hit parade e in qualche maniera il merito di questa rivoluzione se va sicuramente a tutti quelli che hanno portato il rap in classifica e nessuno glielo toglierà mai va anche in qualche maniera a tutti quelli che hanno sfondato quella porta nei primi anni 90 che impediva a chiunque si esprimesse in italiano di fare musica figuriamoci se esprimendosi in italiano poi dentro alla musica ci metteva una forma anche solo slavata di contestazione dell'esistente noi siamo andati oltre tutto questo aprendo secondo me in qualche maniera la strada la possibilità che tanti altri poi dopo di noi potessero fare anche meglio di noi ed è così è stato Eggi il disco è arrivato alla quinta posizione per la top hit italiana una soddisfazione no? Sì anche perché nel frattempo che lo dicevi è già arrivata alla terza quindi domani mattina saremo primi in classifica immagino sì no è una grossa soddisfazione soprattutto per il fatto che tutti gli incassi di questo disco tutti gli utili della vendita del disco verranno devoluti alla costruzione dell'asilo Arrigoni nella striscia di cazzo che è una cosa alla quale teniamo molto